La vittoria del cuore, il Prato supera qua a Lungo Bisenzio per 2-1 l'Olbia, è una sfida davvero emozionante. Non c'è il tempo di accomodarsi in tribuna, che l'Olbia passa in vantaggio. Colpo di testa di Benedicic, Melegratti respinge e Muroni mette dentro, scende il gelo sul Lungo Bisenzio. Il Prato riesce a riorganizzare le idee e al quindicesimo pareggia. Colpo di testa di Moncini, respinta di Ricci e per Di Molfette è un gioco da ragazzi, spingere la palla in rete, 1-1. La partita diventa divertente e vibrante, con rapidi capovolgimenti di fronte. Melegratti fa il fenomeno sul colpo di testa di Ragazzo e neutralizza il guizzo dell'attaccante Sardo. La replica del Prato è mortifera. Calcio d'angolo di Molfetta e colpo di testa vincente di Moncini. La rimonta è servita, il Prato è avanti per 2-1. Siamo partiti forti, abbiamo messo in difficoltà il Prato che poi ha reagito. Abbiamo preso due gol su due colpi di testa e uno su palla inattiva dove soffriamo un po' troppo. E poi da lì già sull'uno pari i ragazzi si sono un po' bloccati perché comunque è da tanto tempo che non facciamo risultato. E quindi ci sta che un po' ci si blocca, subentra la paura anche per il momento che stiamo vivendo Olbia e quindi non abbiamo avuto forza di reagire. Nel secondo tempo la partita rimane equilibrata. Al settimo l'Olbia rimane in 10 uomini. Espulso Piredda per doppia munizione per questo fallo su di Molfetta. L'inferiorità numerica consente al Prato di alzare il baricentro. Ceccarelli fa la barba al palo con questo siluro, mentre Melgrati si conferma in super giornata e vola a deviare il tiro di Ragazzo. Finisce 2-1 per il Prato, una vittoria sofferta ma determinante per risalire in classifica. I bianco-azzurri rialzano la testa e rientrano nel gruppone salvezza. Già sapevamo che era una partita dura sotto l'aspetto anche agonistico. Poi subito pronti via vai sotto di 1-0 e non è stato facile. Devo dire che dopo c'è stata una grande reazione. Abbiamo iniziato a giocare, a giocare anche secondo me abbastanza bene sotto l'aspetto tecnico, delle giocate importanti e poi siamo riusciti a pareggiare e poi andare anche in vantaggio. Devo dire che il primo tempo è stato davvero giocato ad alti livelli. Ponte d'Era è archiviata ma quanta fatica, triste realtà della lotta salvezza.